Dunque ragazzi, la lezione di oggi riguarderà la storia d'Italia. Dunque, aprite il libro. Piorino, ma che ti sei fatto alle mani? No, niente, stavo aiuto a papà in cucina, me l'ho scottato. Povero Piorino, mi dispiace, spero che guarirei presto. Sì, grazie, non è niente. Bene ragazzi, allora vediamo un po'. Dunque, 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 aprite il libro a pagina 50. Signorina? Sì? E io come faccio? Oh scusa Pierino, hai ragione, adesso ti aiuto io. Ecco qua. Sì, grazie. Certo che la signorina è proprio buona, eh? Eh sì, è buona, è buona. Ma Pierino? Cos'hai? E perché piangi? E perché il tuo papi viva con ste mani fasciate come faccio? Non ti preoccupare, ci penso io. Oh sì, grazie, grazie. Ma Pierino! Sei un maschile al sole, io ti farò sospendere per tutto l'anno. Pierino! Lucia, non mi frega di sordi, eh? Pierino! Sono venuto al posto del padre e della madre, perché io a Pierino lo conosco più di tutti. Oggi Pierino è pentito e chiede scusa a tutti. Eh? 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 Allora tocca a te, Pierino. Siamo tutti qua ben disposti a accettare la prova sincera del tuo pentimento. La buona volontà si può dimostrare con una sola parola, con un solo gesto. Hai capito? Ti hanno perdonato. Aspettano un gesto, una parola. Ma sei sicuro, no? Ma sicuro sì. Non hai sentito? Adesso aspettano un gesto. Tiene!